eccoci qua ciao eccoci benvenuti benvenuti ciao a tutti ragazzi annalisa benvenuta benvenuta tra noi di nuovo grazie grazie a te e soprattutto auguri a te e a tutte le donne oggi è l'otto marzo e festeggiamo ospitandoti ma poi io essendo io avendo io doppiato un personaggio che ama molto le donne poi parleremo di lui non potevo che essere l'ospite giusta vabbè usiamo mineta passiamo su nagisa che almeno è più no è più carino verso il gentil sesso nagisa è molto a modo diciamo tra l'altro i nostri due personaggi in assassination classroom hanno interagito poco perché il mio interagisce di più con gli altri però però c'è stato c'è stato un punto che poi vedremo quando uscirà ancora quest che cercano di convincermi a ad accettare le ragazze della classe eccetera sono tutti vestite da maid e vestono pure te vestono pure nagisa no no sì non 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 anticipiamo nulla perché sarà veramente una ecco l'episodio è bellissimo ci sono state delle situazioni parecchio paradossali con nagisa e penso che si avrà modo di vederle e di riconoscerle perché ci sono dei momenti veramente topici a livello anche di comicità e non solo di disperazione ma veramente momenti direi di alta comicità ma anche un po di cringe ma ci sta coro quest bellissimo perché mi ricordava un po un vecchio cartone che non so se tu guardavi anche questo che era guru guru che lo davano su rai due scusa non ho sentito si chiamava guru guru che c'era anche la sigla questo è guru guru è no io questo me lo sono persa guarda è molto è molto simile a coro quest sì 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 è molto simile a coro quest cioè i concept sono personaggini sì molto caricaturati e comicità sprenata esatto in un ambiente fantasy quindi praticamente anche loro era come se vivevano dentro no un gioco di ruolo una roba del genere e quindi anche la c'era un gioco fantasy di ruolo esatto beh se non l'ho visto non è amo core quest me lo vecchio spero spero che non perché non l'ho più visto su sai piattaforme streaming o cofanetti blu ray eccetera non so se l'hanno rimesso da qualche parte io ci spero però che torni prima o poi quindi nel caso quando uscirà e se uscirà te lo avviso subito perché secondo me potrebbe piacerti molto perfetto allora ragazzi intanto che noi siamo qua un po a chiacchierare se avete appunto domande per analisa scrivetele pure in chat che poi i nostri moderatori andranno a recuperarle e andrò poi io a leggerle qua per voi allora io analisa in realtà ci siamo conosciuti da poco perché ci siamo conosciuti un po anche grazie a queste a queste chiamiamole videochiamate questi queste live che sono più delle videochiamate tra noi in realtà perché delle dirette e però chiacchierando abbiamo scoperto che porca vacca avevamo un casino di cose in comune su come abbiamo iniziato la carriera del doppiaggio ovvero la fissazione di ascoltare i doppiatori guardando i cartoni animati assolutamente sì perché tutti e due abbiamo avuto questo trascorso dove già riconoscevamo tutte le voci no sì quindi anche anche tu ti mettevi la ma scusate se magari a volte mi interrompo ma perché la connessione non è ottimale sì a volte non mi impalla un po tutto quindi chiedo scusa sì sì ma ma resistiamo tranquilla no sei sei un po se sei un po infermi immagine adesso però ti senti però ti sentiamo no ancora no io ti sento un po robotico adesso ma me lo dicono anche in sala che mi sentono robotico ma ok magari avuto un calo di connessione ci sei ora ci senti scusa e ma c'è li dipende anche dal personaggio dai è giusto giusto ok ci siamo cioè il tuo personaggio in assassination poi non è che avesse tanti diciamo picchi di reattività no anzi anzi ma ma è come me ma è come me sta sta là fisso guarda gli altri ogni tanto commenta dice qualcosa deve dire la sua su quello siamo abbastanza simili non sei solo voce e volto ma anche sì 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 no ma c'è carattere oltre che voce e volto esatto e tu invece con tu sei più simpatico di lui ah beh dai grazie tu invece con Nagisa mi ricordo che quando parlavamo della live dicevi che avevi insomma dei tratti in cui ti c'eri un po ritrovato o comunque ti ha attirato subito il personaggio sì sì assolutamente nel senso che Nagisa ha questo carattere apparentemente inizialmente introverso sulle sue allora l'unica cosa che non ho in comune con lui sicuramente il fatto che lui sia un ottimo osservatore e sia un osservatore proprio analitico della realtà degli altri sì infatti sarà il più grande osservatore di Koro Sensei tanto da stillare anche una lista no come sappiamo eh sì però ecco questo a me manca spudoratamente nel senso che io non vivo più nel mondo degli unicorni cioè vorrei essere come Nagisa sotto questo punto di vista ma potrei anche far finta che sia così ma non lo è quindi no però per quanto riguarda il carattere introverso il fatto di essere anche un po' cioè anche io un po' in classe era un po' quella piccolina apparentemente magari indifesa apparentemente magari gentile però se se mi rompevano le balle poi sorprendevo ho detto papale papale sorprendevo abbastanza ecco ho avuto anch'io dei momenti in Nagisa ero simile a lui nel senso che comunque ero nei lati negativi nel senso che ero introspettiva poi un pochettino indifesa magari rispetto ad altri piccola di statura quindi capisco benissimo il nostro Nagisa che soffre anche di questo complesso eh sì perché è l'unico alto come le femmine in tutta la classe però assolutamente per quanto riguarda l'aspetto degli appunti e della secchionaggine niente di tutto ciò però anche se Nagisa va da secchione alla fine è finito nella sezione end quindi non penso sia mai stato un grandissimo studente nemmeno lui ecco guarda anche se lui è finito nella sezione end per altri motivi scusate ma in quanto c'è qualche sciacquone di qualche altra stanza vicina no ma figurati guarda su un attimo una colonna sonora d'eccezione ma tiro anch'io il mio così almeno insomma non possono dire che è solo il tuo dai grazie perché qui facciamo come una colonna sonora stasera metto una musichina di sottofondo per coprire dai qualcosa di carino se no poi non ti sentono più no in realtà alla live io lo posso mettere davvero ah eh sì se non ci bannano direttamente sì 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 io ogni tanto le metto non le metto quando ci sono le live degli ospiti perché magari poi va a coprire coi volumi perché giustamente ognuno ha un volume suo e non ci sentono magari sentono me non sentono te o viceversa però però sì in realtà ogni tanto gliele facciamo guarda c'è già la prima domanda della serata che ti chiedono come è nata la tua predisposizione a doppiare esclusivamente gran parte dei personaggi anime maschili esclusivamente proprio no però ne hai doppiati tanti no no in realtà doppio anche molti personaggi femminili ma non solo magari con gli anime meno però magari nei videogiochi nei cartoni animati nei telefilm nei film e nei reality e docu reality vabbè tante tante ragazze più o meno giovani nel senso che comunque faccio un esempio come cartoni non giapponesi sto doppiando Shani nelle polli pocket che vabbè ragazzina 12 anni però comunque personaggi come il suo me ne capitano frequente quindi non solo personaggi maschili ora negli anime è capitato è capitata sì questa concentrazione perché comunque anim è venuta fuori questa consuetudine dicevo perché magari molti direttori hanno trovato la mia voce particolarmente adatta quindi questa cosa mi ha fatto anche un po' curriculum magari ho iniziato hanno sentito questa caratterizzazione allora poi hanno pensato a me anche per personaggi successivi magari anche perché è vero che tante donne doppiano maschietti comunque però magari siamo meno doppiatrici che copriamo quella fascia d'età che può essere fino ai 12 anni magari o comunque un mineta che ha un'età già un po' più o lo stesso Nagisa sì diciamo che almeno non sto parlando da sola no 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 ti stavo lasciando parlare io anche perché con questi salti non vorrei coprirti ancora di più no dicevo è vero anzi nell'animazione in particolare abbiamo spesso sentito doppiatrici doppiare maschietti però erano quasi sempre bambini difficilmente erano qualcosina di più mi ricordo ad esempio Patrizia Scianca che doppiava che so Gohan che era quella via di mezzo che non era né bambino né ancora la versione adulta doppiata poi da Garbolino teneva quel range lì ma erano veramente poche perché comunque chi riusciva a fare la voce cosiddetta da maschietto era sempre bambino però rieccoci qua allora Annina adesso non è più in videochiamata ma è in chiamata la sentite? ecco esatto ok mi fa un'immagine sì adesso metterò anche una tua bellissima foto ritornavamo al discorso insomma delle voci maschili che dicevamo che insomma grazie a questa tua particolarità hai questo range vocale che non è da tutti appunto perché stavamo dicendo che molte anche in passato della insomma della tua età e tutto doppiavano prettamente bambini tu invece hai avuto modalità di doppiare anche ragazzini un po' più adulti adulti insomma adolescenti adulti non so sì entro sempre facciamo i 12 anni massimo 13 perché poi compete a voci maschili nel senso sempre comunque ragazzini magari non liceali ma non con la voce più proprio bianca bianca da bambino magari quella fascia d'età preadolescenziale diciamo un po' più come dovrebbe già essere anche Mineta in realtà anche se lui ha una voce molto acuta in originale io ho cercato di andare di assomigliare molto all'originale cioè di essere fedele all'originale il più possibile quindi lui va bene nonostante l'età lui anche in originale non ha una voce come credo si sappia non ha una voce che ricalca molto la sua età anagrafica ecco questo tendevo ma neanche Nagisa anche se con Nagisa ho potuto tenermi un po' più sulle basse rispetto a Mineta rispetto ad altri bambini mi ha anche divertito ecco perché comunque proprio grazie alle note della mia voce mi viene comodo anche stare sulle note un po' basse non mi dispiace e che poi è anche una particolarità che insomma per doppiatrici giapponesi è quasi la norma e qua invece appunto dicevo sì sì perché insomma vedi personaggi tipo ma tipo vedi personaggi come Goku o Rufi di One Piece cioè sono doppiati da donne ed è la normalità fare quel tipo di personaggi da loro da noi è un po' più difficile fare questo e tu ricalchi molto questa cosa delle doppiatrici giapponesi secondo il mio punto di vista sì anche se io ti dicevo davvero ero stupita perché in quel momento credevo che intendessi che è consuetudine per le doppiatrici giapponesi avere una voce scura avevo proprio il contrario infatti ero stupita ho detto ma come perché comunque è vero che io ricalco quella consuetudine ma magari rispetto alle doppiatrici giapponesi che hanno tutte una voce veramente squillante ma anche la doppiatrice di Nagisa è una donna ma ha una voce molto più squillante in originale della mia sì sì è vero ma loro non c'è la via di mezzo notato tra diciamo ragazzi e ragazze no c'è c'è questa cosa che quando c'è la ragazza o il ragazzo c'è o la voce squillante o la voce bassissima non c'è la via di mezzo sì sì è vero non c'è mai non c'è mai la via di mezzo e comunque a me Nagisa io ho cercato di farlo un attimino più di rispettare più magari i nostri canoni tra virgolette nel senso di non ricalcare una voce così squillante come il giapponese perché penso che che la resa per un orecchio italiano cioè ci vuole anche un po' di adattamento quando si modula la voce nel senso adattamento culturale per comunque per gusto Nagisa ci è sembrato di poterlo sentire con una voce la mia più bassa della doppiatrice originale ma ci sta voglio dire ci è sembrata l'adattamento vocale più giusto insomma non so come dire non è stato pensato troppo acuto no no è il giusto equilibrio infatti secondo me anche perché poi deve creare sempre quella cosa un po' ambicua del personaggio perché esatto anche i compagni di classe si sorprendono in un episodio che abbiamo già visto su anime generation che dicono ma come sei un ragazzo perché lo vedono a petto nudo che sta facendo il bagno e si sorprendono cosa pensavate fino ad ora ma poi non solo quello l'atto l'aspetto su cui viene bullizzato Nagisa più spesso è proprio il fatto che vogliono vedere che cosa lui poverino che cosa lui abbia lì sotto insomma questo alone di mistero intorno alle pubenda del povero Nagisa è vero il poverino ha questa tortura guarda invece quando tira fuori la sua parte assassina diciamo che la sua virilità si vede insomma molto direi molto quando ha quello scatto che che va in modalità assassino è bellissimo è proprio un figo dai ragazzi diciamo è un figo è un figo sì è un figo io adoravo doppiarlo in quei momenti sempre mi è piaciuto doppiarlo ma in quei momenti mi gasavo tantissimo fantastico non va fuori il suo lato migliore guarda in chat ti chiedono tra l'altro a proposito di Nagisa se conoscevi già il personaggio prima di essere la sua doppiatrice e ricordo che nella live di Assassination avevi detto se ricordo bene no ma che stavi adattando i copioni giusto? scusa e ti ho perso un attimo mi riformuli la domanda sì ti chiedevano se avevi conosciuto cioè se conoscevi già il personaggio di mi senti? no anche qua ti stiamo perdendo adesso mi senti mi senti sto facendo pronto prontino pronticino come Flanders io ti sento tu mi senti? adesso mi senti? sì perfetto allora mi chiedono se conoscessi già l'opera di Assassination Nagisa nel particolare cioè più che l'opera Nagisa scusami? no ti chiedevano più che l'opera Nagisa il personaggio? sì se lo conoscevi già da prima no no non lo conoscevo come non conoscevo tutto Assassination Classroom quindi l'ho conosciuto quando ho iniziato a fare adattamento dialoghi perché ho iniziato così per quella serie e che poi hai avuto la bella sorpresa di doppiare lui che tra l'altro è uno dei protagonisti principali se non il protagonista assieme a Koro Sensei certo certo sicuramente Koro Sensei io lo vedo un po' secondo me sono entrambi hanno la loro sono entrambi i protagonisti e tutti e due servono fanno da parte da parte portante all'opera ma tutti e due hanno una hanno veramente una valenza cioè dipendono l'uno dall'altro come personaggi secondo me uno non può esistere senza l'altro si alimentano a vicenda ecco sì 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 concordo anche perché poi Nagisa è un po' più quasi la bandiera della classe E quindi certo è colui che ci porta di più alla scoperta del personaggio di Koro Sensei i suoi punti deboli ed è un po' un po' io lo vedo un po' come il leader della classe alla fine perché comunque come il un po' come un leader della classe sì un leader involuto diciamo sì perché comunque lui non non vuole quel ruolo non ama avere quel ruolo che poi secondo me psicologicamente quel ruolo lo affida volentieri a Karma a un certo punto sì vi è stato appioppato sei stato riammesso a scuola dai fai un po' tu il leader cioè ci sei tu diciamo che le mazzate le prendi tu e io sto dietro le quinte a prendere appunti cioè ecco è un po' il secchione lui è la mente mentre Karma è un po' il braccio no sì sì concordo sì 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 ma comunque nella classe ognuno di Assassination ha il suo ruolo cioè pur stando nella classe dei reietti praticamente però ognuno di loro in realtà ha una particolarità un talento che semplicemente non è stato mai preso e sviluppato cosa che Koro Sensei invece tenta di sviluppare infatti ognuno di loro ha la sua la sua capacità Nagisa forse sviluppa di più quel lato assassino anche oltre che questo lato appunto molto che va a studiare il nemico queste tattiche cioè molto da da stratega ecco cioè sembra molto stratega lui e sembra anche vabbè adesso poi non voglio anticipare niente però sì questo suo lato assassino durante durante gli episodi e gli avvenimenti viene fuori particolarmente magari invece altri studenti hanno cioè quello che ha propensione più il talento del baseball quella che ha quell'altro talento insomma ognuno veramente è un talento inespresso che grazie a Koro Sensei viene fuori lui permette a loro di brillare di esprimersi sì concordo concordo guarda cambiando invece argomento ti chiedono come è stato doppiare il personaggio di non so se lo pronuncio giusto io adesso è Xayia un personaggio di Xayia di League of Legends è giusto? League of Legends ok sì è stato è stato veramente fantastico perché al di là dell'opera in sé è un videogioco della storia in sé che mi ha preso tantissimo ma il mio partner in crime e partner in love dell'opera era Andrea Oldani e mi ricordo che a quei bei tempi eravamo ancora insieme in sala e quindi l'avevamo anche se di solito i videogiochi in realtà vengono doppiati singolarmente nel senso che i doppiatori non sono mai insieme in realtà per quel gioco c'era stato concesso l'enorme privilegio di essere insieme in sala nei momenti di dialogo ed era stato veramente adesso io non mi ricordo più quanti anni sono passati non tantissimi ma neanche pochissimi beh saranno circa 7 o 8 al massimo forse sì più o meno però al di là del personaggio di Xayah che è una guerriera tosta ironica anche dolce però sempre a modo suo mi era piaciuto particolarmente lo scambio di dialoghi con Andrea Oldani stimatissimo collega bravissima era stato molto di ispirazione ed era stato anche molto divertente erano nati anche dei momenti di golierdia pura e di risate che poi magari sono hanno contribuito un po' anche a rendere i momenti divertenti della storia veramente divertenti insomma tra l'altro è la primissima volta che sento anche io nei videogiochi che si entra in coppia perché io cioè col fatto che ricordiamo i videogiochi non si vedono mai le schermate o altro c'è sempre la cosiddetta onda sonora è vero ma a metà nel senso che negli ultimi anni i videogiochi hanno sono migliorati graficamente ma non solo anche hanno ci sono molte parti della storia dove ci sono dei veri e propri video e noi finalmente negli ultimi anni possiamo doppiare spesso e volentieri anche proprio dei video stratti non sempre tutta l'opera per intero però a differenza dei primi anni in cui ho iniziato io a farli quindi magari dieci anni fa invece era ancora come prima come li doppiavano da prima che arrivassi nel mondo del doppiaggio e cioè sempre solo forma d'onda invece dopo man mano io ho assistito a questo aumento di video nelle opere di videogiochi certo l'ho vissuto sulla mia pelle diciamo non sono ancora non siamo ancora a livello di doppiare solo video però c'è già qualcosina di più giusto ecco rispetto a una volta che era zero adesso siamo qualcosina anche divisivo caspita io nel cyberpunk 2077 dove doppiavo misti col negozio di esoterismo quel personaggio un po' mistico un po' misti ho avuto l'occasione un po' misti ho avuto l'occasione di doppiarla di doppiarla su un sacco di video ah vede sì è stato quindi vabbè adesso non mi ricordo quanti video avessimo a disposizione in realtà in league of legends però avevo il danni quindi diciamo che si è sentita un'energia diversa perché è vero che non è da quando c'è il covid è da sempre che i videogiochi non si doppiano in compresenza in sala è sempre stato così si è sempre fatto così al di là del fatto proprio che ci fosse solo la forma d'onda è così sì anche per come sono strutturati cioè esatto a parte che poi anche il doppiaggio normale insomma parlandone spesso nelle live anche con chi insomma era del mestiere 30 anni 40 anni fa dove invece era un po' più la norma no? buttarsi tutti insieme o fare molte parti in coppia no? poi questa cosa via via anche prima del covid appunto come dicevi anche tu è diminuita è andata scemando finché adesso siamo arrivati proprio a o così o niente beh adesso purtroppo sì però è andata scemando anche perché sono cambiati questo va detto i tempi le tempistiche di lavorazione purtroppo si è andati in una direzione insomma diversa cioè le cose si evolvono e quindi sono sempre meno frequenti però io mi ricordo di aver fatto turni di brusì con ancora 7-8 colleghi ma le risate ragazzi e l'unico cosa che mi ricordo le risate no c'erano dei momenti dove purtroppo quando capitavi col collega o la collega con cui c'era particolare feeling e con cui si diverte di più purtroppo era un problema che scattasse il momento sai quando sballi quando c'è quella scena particolare c'è il momento in cui si inizia a ridere e non si riesce a smettere e questo purtroppo succede sono gli inconvenienti del mestiere ma tra l'altro la cosa bella era anche conoscere colleghi nuovi perché io almeno sì mi è capitato soprattutto ancora adesso faccio brusì eccetera mi capitava di conoscere dei colleghi così di installare dei rapporti magari si stava là oh Dio aiuto poi dopo piacere Loris e quindi è una cosa che devo ammetterlo mi manca perché adesso insomma ci sono tante persone nuove che iniziano che hanno iniziato anche magari insieme a me o altro e non si riesce molto a interagire li vedi passare e dire chi è questo chi è questo certo è vero invece una volta Galeotto era il brusio nel senso che mi ricordo che magari anche quando non conoscevo tutti quelli presenti intorno venivo automaticamente ti appaiavi a qualcuno perché a un certo punto c'erano questi maxi brusì di dialogo di sottofondo dovevi per forza girarti in una direzione trovare qualcuno e dialogare con questa persona e gli sai scusami dopo un dialogo così vuoi non fare amicizia vuoi non instaurare un rapporto umano di un certo livello ovvio che sì quindi tante cose ma io sono fiduciosa che le cose torneranno questa pandemia quantomeno si tornerà ad avere qualche collegio in sala sia nei brusì che nei dialoghi nei personaggi beh qualcuno qualcuno so che magari sai chi ha il compagno la compagna che lavora nel mondo del doppiaggio so che è capitato che hanno fatto dei turni perché giustamente questi convivono assieme controllati sono come si dice prossimi congiunti sì o sono proprio congiunti e quindi sì sono proprio congiunti questo non lo sapevo però avrebbe un senso nel senso che comunque si sono congiunti sì siamo a casa magari siamo in sala come si urlano a casa si urlano in sala giustamente sì prendi che magari a casa non per finta però vabbè cose belle cose belle guarda ti stanno citando due personaggi che vediamo se li ricordi che vediamo uno si chiama Sirica di Kirby e Relay di Ark V che ricordi hai di questi due personaggi se li ricordi allora Relay dovrebbe essere Riley di Yu-Gi-Oh Arch V non mi ricordo più ragazzi tanto indietro nel tempo io sono incoglionitis io sto leggendo Ark trattino V poi non so se è un V di un 5 è Yu-Gi-Oh ok io non conosco la serie però Riley io ricordavo in realtà in Yu-Gi-Oh di aver doppiato anche un Frederick successivamente forse a questo Riley che viene prima e ho dei ricordi un po' nebulosi invece dopo io ho doppiato anche Frederick che era un personaggio buffissimo che pensava solo al cibo e quindi avevamo un sacco di punti in comune ecco mi dicono che è un 5 quella via è un 5 comunque quindi Ark 5 quindi è Yu-Gi-Oh grazie è Yu-Gi-Oh confermiamo ok l'ultimo personaggio di Yu-Gi-Oh che ricordo era proprio questo Frederick quindi qualcuno può dare una mano nei commenti nei commenti mi stanno dicendo Loris ma è Ark 5 ma ci ha lavorato anche Jacopo perché io giustamente devo sapere tutti i cazzi dei miei amici ma Jacopo non ha mica fatto un protagonista di Yu-Gi-Oh Ark 5 è Yu-Ya mi sembra che si chiami o qualcosa del genere è Yu-Ya ed era nella serie e io ero Frederick ah è quella serie esatto ero il suo amico sfegatato che si è una delle due amiche di cui ignoro il nome e facevamo il tifo per Yu-Ya ma quante volte ho urlato forza Yu-Ya con questa voce da bambino grasso forse tedesco perché Frederick ecco quindi io ogni tanto mi sveglio pensando forza Yu-Ya ah no scusate sono nel mondo dei vivi e il tuo compagno Annalisa che succede ah Yu-Ya Yu-Ya ma chi è questo Yu-Ya di la verità poi lui va a cercare su google vede Jacopo viene a picchiare Jacopo poi no no non mi potete no ma poi lui con i suoi potenti con i suoi sensi di ragno impedirebbe tutto questo è vero è vero no vabbè ragazzi però io di io di Ark 5 ho questo ricordo di Frederick Riley probabilmente si l'ho doppiato ma molto prima e purtroppo le sinapsi stanno fanno quello che possono ecco nel mio caso io ho conta che questa serie è zero perché il mio ricordo di Yu-Gi-Oh si ferma la primissima serie quella che c'era Max di Benedetto protagonista e non ho mai più continuato ah beh quindi e perché sono diventato vecchio lo dirò a Calatroni bravo adesso io lo dico io guarda direttamente mi autodenuncio ecco ti autodenuncio faccio l'autocertificazione della denuncia in questo caso sì perfetto e l'altro dicevano Sirica anche qua speriamo di non spagliare la pronuncia di Kirby presumo Kirby il cartone animato basato sul videogiocco della Nintendo ok sì però io me è una delle forze primissime cose che ho fatto quindi chiedo venia ma devo andare a recuperare me stessa in queste cose perché purtroppo beh questo è un segnale positivo perché vuol dire che comunque da allora ci sono stati insomma fortunatamente un bel po' di lavoro di personaggi di cose infatti di robe quindi è un segno positivo vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno per il fatto che non posso non ricordarmi tutto il bicchiere mezzo vuoto è che purtroppo perdo colpi ragazzi no dai perdo colpini ve l'ho detto non ho la memoria di Nagisa dai poi appunto tutto come lui puoi utilizzare quella cosa da doppiatore affermato no da ah sì forse l'avevo fatto mi sembrano no 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 non ci piace darci un tono guarda qua ti ricordano Elise Elise della Sala di Assassin's Creed in questo caso sempre Assassin's Creed e Unity Unity Elise della Sala e anche quello lei oltretutto lei è fighissima cioè i capelli allora io i capelli rossi non sono figa come lei però quando me l'hanno segnato ho detto cavolo che bello mi hanno la stessa capigliatura voce e volto basta sì no ma lei è un'incredibile guerriera cioè è una tosta ma c'è questa cosa nei videogiochi che mi mi lusinga molto dove finisco sempre a doppiare delle tipe toste e questa cosa mia a parte misti di cyberpunk che era più dolce che ho doppiato forse tutte le altre delle gran guerriere delle gran fighe questo mi fa molto piacere questa è una cosa tipica cioè ogni tanto si va su stereotipi con i doppiatori quello là doppia sempre che so il guerriero allora chiamiamo lui o lui fa sempre che so il personaggio magari un po' più pacato tranquillo chiama quell'altro cioè c'è questa cosa ho notato certo c'è chi fa sempre il mezzo villain che il invece il secchione è chiaro che magari se uno ha un'ottima risa su una particolare tipologia di personaggio ma non solo come interpretazione anche come tipologia di timbro perché ci sta anche quello è vero che potenzialmente un doppiatore potrebbe potrebbe e dovrebbe voler desiderare di fare tutto come un attore di fare molte cose diverse perché quello è il divertimento però è innegabile che e torno a dire esattamente come anche gli attori che a video hanno un impatto che a video hanno un impatto anche la vocalità ha un suo impatto nel senso che comunque è innegabile che certe tipologie di vocalità si prestino a un determinato a determinate tipologie di personaggi piuttosto che altre ecco poi sperimentare è bellissimo e adoro anche lavorare con i rettori che hanno voglia di sperimentare ti provano a farti interpretare ruoli più disparati che magari per i quali magari non verresti pensato immediatamente magari per la tua tipologia di timbro certo o per perché si discostano dei ruoli che hai sempre fatto però insomma è anche quello il bello ragazzi potere tartaruga ben venga intanto Lorenzo ci manda un tifo grazie e ti fa gli auguri per la festa della donna grazie Lorenzo grazie mille e qua ti chiedono tra le altre cose com'è stata l'esperienza del doppiaggio di cyberpunk è stata un'esperienza veramente importante perché il direttore di questo videogioco è Leonardo Gaio che è una persona che mette veramente l'anima in quello che fa e intanto lui stesso è un attore bravissimo in secondo luogo lui adora i prodotti che fa e gli porta un rispetto enorme anche perché non lo facciano è un videogiocatore a sua volta assolutamente esatto è un fruitore il suo stesso molto appassionato quindi lavorare con lui è stato c'è stata una sinergia particolare perché ti porta proprio ad entrare nel personaggio ma ti trasporta in quel mondo te lo dipinge di un gran conoscitore dell'opera nel dettaglio quindi tu non puoi fare a meno di essere trasportato sei subito ti sembra come quando stai giocando come quando non a videogiochi ma a giochi a recitare cioè come quando sei bambino sei totalmente condizionato da quello che fai non a caso come si dice spesso recitare in inglese si dice to play perché in realtà bisogna ritrovare quando ritrovi quel gioco che con leonardo io con leo ho ritrovato sempre lì arrivi a un livello dove sei totalmente dentro e adesso dopo questo noioso preambolo con cyberpunk è successo così insomma è stato catartico è stato catartico e poi insomma ci sono state delle scene importanti anche con word così quindi è stato e poi l'opera era molto attesa l'opera fatta benissimo quindi è stato è stata un'esperienza importante e Misty in quanto personaggio dolce in un mondo di di cyborg no in un mondo senza anima Misty rappresenta un po' l'anima il cuore in questo futuro distopico no e quindi è stato è stato bello tirare fuori queste mie corde non è stato sempre facilissimo ma è stato bello veramente è stato un viaggio bene guarda tra l'altro due cose ti chiedono se hai un canale twitch dove seguirti no che io sappia no ancora no non hai non è iniziato twitch a nostra insaputa e ti chiedono come è nata la tua passione per il mondo nerd questa domanda mi piace molto perché è la domanda che in un certo senso ci ha fatto avvicinare perché abbiamo iniziato a a chiacchierare di ma no ma dai anche tu facevi questa cosa guardando il cartone animato di no quindi esatto come è nata questa passione loro dicono nerd ma generalmente perché so che tu non sei molto videogiocatrice no però anime ne guardavi cartone animati ne hai portati tantissimi forse dovrei definirmi ho iniziato come otaku più che come nerd anche se proprio non a livello otaku come si intende magari in Giappone non so proprio l'otaku diciamo diciamo che è un po' l'esagerazione ancora oltre di come lo siamo noi certo si proprio estremizzata però no nel senso sano nel termine ero una che adorava i manga gli anime e già allora da piccola amavo già riconoscere le voci mi affascinava già tutto quello che era voce dietro un cartone animato no e poi è nata verso i 12 13 14 anni questa grande passione per i prodotti giapponesi perché comunque poi vabbè io sono di quella generazione che avevo iniziato guardando Sailor Moon vabbè Rayard Slayers questi questi qua mamma mia e avevo mamma che bello con la voce della facotto che era adoravo sì sì ma poi aveva aveva quella sigla che boh cioè rispetto ad altre di cortone animati mamma mia ma sai che mi stai facendo venire voglia di andare a riascoltarmelo mi hai sbloccato questo ricordo grazie un incantesimo dischiuso dischiuso tra i petali del tempo vabbè al di là del titolo infinito che era stato dato in Italia perché ai tempi purtroppo non c'era la cultura della dello rispettare molto l'originale se andava un po' più per per viola diciamo però magari lo riproporranno anche col titolo originale la sigla no la sigla mi piace sì anche perché era stata ridoppiata la serie non so se è tutto fino a un certo punto proprio per attenersi di più all'originale però non l'hanno più ricaricata da nessuna parte ma anni fa tanti anni fa non ricordo se da Dainet o Yamato Video però era stata non saprei ricordo che era stata ripresa e forse cambieranno anche il cast adesso non vuole dire una cavolata ma classico discorso per attenersi all'originale perché ti ricordi i nomi tipo Guido no c'erano tutti questi nomi qua dopo era doppiato da Diego Sabre se non mi sbaglio e a me piaceva tantissimo Diego Sabre mi piaceva il suo personaggio Guido perché allora era bufissimo era era troppo mi faceva morire questa cosa mi è piaciuta molto anche perché chiacchierando di queste cose a una certa dovete sapere ragazzi che io e Annalisa ci si è domandati io sapevo la sua età ma lei non sapeva la mia no una certa mi fa scusami ma tu come fai a sapere questo cartone animato come hai fatto a guardare quell'altro eccetera credevo che lui fosse molto più giovane sì tipo quei 10-15 anni in meno mi davi però tu non dire la mia età dai la festa no 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 non la dico non la dico non me lo fare diciamo che siamo vicini siamo vicini ecco siamo più o meno no e però abbiamo vissuto assieme quel periodo e non lo sapevamo e non lo sapevamo e lui ho detto ma te che cacchio ne sai di quelle robe lì scusa e invece il poverino lui fa ma no ma cosa dici no comunque tornando a monte io ho un sacco di no non posso dire di che anno fossero le pubblicazioni star comics che conservo ancora nella mia cameretta a casa di mia madre se no scoprite la mia età però diciamo che ho tantissime pubblicazioni star comics abbastanza ecco voi direte anche già vintage quasi però la mu ma un sacco dragon ball bello la mu tutto dragon ball dragon ball z tutto quindi io ero una un appassionata di manga e anime mi piacevano tanto eh tipo qual era e qual è il tuo preferito invece cioè di quel periodo e qual è invece adesso sei rimasto lo stesso o sei cambiato no io avevo preso una scuffia pazzesca per dragon ball non so come mai e per il personaggio di krillin no io quando si era il mio preferito ma dai ma ai tempi c'era una tifoseria da stadio per dragon ball cioè che quando usciva una puntata e quando goku che ne so sconfiggeva freezer sconfiggeva vegeta c'era tu sentivi tipo l'intero palazzo che esultava perché era l'unico momento in cui andava in onda quella cosa lì e tutti lo guardavamo nello stesso momento e non si sapeva come sarebbe andata a finire quindi voi direte non lo so magari chi ascolta dirà mamma mia che vecchiume però in realtà c'era un'emozione particolare in questo ti racconto un'esperienza mia che ne abbiamo parlato anche ieri sera con Jacopo e Gabriele i nostri ospiti voglio vedere se è la stessa cosa se è successa anche a te hai detto giustamente no che insomma sì nessuno sapeva come sarebbe andata avanti perché non c'era o meglio sì c'era internet ma non come lo conosciamo oggi no e quindi non è che dici vabbè dai oh mi vado a cercare l'episodio in giapponese apro youtube cioè non c'erano i streaming raga non c'erano non c'era lo streaming non c'era niente se non ma ma in classe non so se lo avevi anche tu c'era sempre quel ragazzo tipo con la bibbia in mano che era il manga e che lui arrivava dicendo io so tutto no l'alzava verso il cielo no oddio sì tra l'altro era quello per cui aveva una una crash ah vedi vedi perché leggeva i manga solo per quello perché ecco un'altra cosa non era da tutti come oggi oggi quasi tutti quanti comunque se non comprano il manga comunque qualche anime lo vedono eccetera invece ai tempi nostri prendere un manga ti guardavano quasi male no ma certo ecco questo è un discorso a cui tengo molto scusami vai vai ho vissuto proprio questo change nel senso che adesso anche chi non li legge dice vabbè tu li leggi ok ci sta che cazzo me ne frega scusate magari le parolacce no no puoi 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 libero libero sì tutto libero qua tutto libero vai cazzo vai io l'ho vissuto sulla mia pelle io ero in classe eravamo in due e figurati al liceo già ti bullizzavano le medie per sta roba figuriamoci al liceo sì ed eravamo in due e io andavo io vivevo in provincia in un paese andavo alla fumetteria in città mi qua solo quando mi poteva accompagnare mio padre perché ovviamente non avevo la patente e c'era questa fumetteria in città che aveva i fumetti se no per il resto adesso cavolo te li trovi alla Feltrinelli alla Mondadori io a volte provo una sorta di penso cavolo però non è giusto ci fosse stato questo ai miei tempi sarei stata ma adesso puoi comprarti online il vestito di Sailor Moon è questo e quello tu una volta ma col cavolo non c'era niente quindi e oltretutto c'è questa cosa del fatto che adesso non è che tutti li leggono ma non soffri di bullismo per essere un fan è molto raro una nicchia è molto raro succede perché alcuni nostri ragazzi ci hanno scritto che hanno subito purtroppo ancora oggi del bullismo anche loro anche loro però è già meno perché si è di più quindi quando magari il bullo cerca di andare a colpire il ragazzo si ritrova non più il singolo o la coppia si ritrova già un gruppetto di persone e questa cosa che hai subito tu l'ho subita anch'io e tutti quelli della nostra generazione certo tutti certo confermo anzi io credo secondo me che questo sblocco lo abbiamo creato noi in realtà perché comunque ormai crescendo chi gestisce questi luoghi posti può essere che magari sai abbia la nostra età o qualcosina più ma certo e magari ha detto no questa cosa importante sdoganiamola ma anche solo chi localizza questi prodotti probabilmente un ex fan quindi è vero siamo stati un po' adesso tiriamocela noi di questa generazione siamo stati quelli che hanno permesso questo sblocco perché dai lo sdoganamento a livello sociale sono stati socialmente accettati proprio grazie a chi da ragazzino ha iniziato ad apprezzarli per poi da persona adulta ha cercato di farne un lavoro sì e quindi questo è molto bello è molto bello ma infatti molti colleghi sì sì molti colleghi nostri hanno iniziato così ma anche vedo chi lavora per queste società come appunto Daini te l'amato sì sono comunque tutti appassionati Orlando che l'abbiamo avuto online tantissime volte con noi Orlando Leone ragazzi lui è il primo fan di queste cose e si vede mi riferivo proprio a persone come lui e infatti quando ne ho preso atto comunque ti scende la lacrimuccia ti commuovi perché sapendo tutti i trascorsi il vissuto la storia di questa passione nel nostro paese cavolo sei felice che si siano raggiunti questi livelli veramente tanto ti dispiace non aver avuto le stesse opportunità quando eravamo ragazzini di poter usufruire di quello che i ragazzi possono usufruire oggi siamo felici per loro assolutamente anzi ti dirò da un lato non rimpiango troppo quel periodo per quanto brutto perché c'era questa cosa che quando trovavi qualcuno come te sapevi che era davvero come te non so se mi spiego adesso come adesso magari trovi qualcuno ed è quello che magari non è veramente fan queste cose lo fa sì no lo fa perché non vuole sentirsi dire che in realtà non è appassionato o altro quindi in realtà quando tu trovi qualcuno che ha queste tue passioni e le ha davvero almeno all'epoca intendo cioè era bello confrontarsi con queste persone e ti aggrappavi un po' a loro è vero perché non avevi altre persone con cui discutere adesso invece la cosa bella è che ce ne sono tante compresi i ragazzi che sono qua con noi e possiamo parlare tranquillamente in pubblico guarda cioè siamo online su internet in videochiamata a parlare delle nostre passioni che una volta boh ma poi io mi ricordo anche che magari chattavi in queste community online con queste persone con questi nick io mamma mia non vi posso dire il mio nick dei tempi era veggie-chan veggie-chan che adoravo veggie-chan veggie-chan però chattavi con queste persone che non avresti tranne certi gruppi che poi magari nelle grandi città organizzavano dicevano facciamo il ritrovo della community il raduno sì per il resto tu che eri piccola in provincia eri tagliata totalmente fuori perché magari a Milano si faceva io stavo in provincia di Brescia non li vedevi mai in volto cioè non avevi un rapporto come adesso che dici vabbè dai la fiera la fiera del fumetto c'era sì ce n'erano poche credo che ce ne fossero molto meno cioè il Romics il Cartomics c'erano già perché saranno 28 anni Fumetopoli che adesso non c'è più era la Fumetopoli vicino Porta Carribaldi Luca Comics sì sì solo che non so tu ma Luca Comics io ci andai molto tempo dopo perché era tipo boh il viaggio all'estero un altro po' perché sì ma perché eri povero in canna e quindi poter andare a Luca no era come per dire wow sto prendendo boh l'aereo e sto andando in America no cioè sì ma perché tu da dove partivi scusa no no da Milano da Milano non è che il viaggio era lungo però scusa allora era più lontano i Romics era più la sì però Romics diciamo lo saltavo barra lo snobbavo un po' di più perché c'era questa cosa di Luca Comics enorme te ne parlavano tutti come la mega fiera no la miglior fiera d'Italia del mondo tu sentivi ste cose loro fanno ste cose poi c'è questo c'è quello c'è quell'altro c'è il paese dei balocchi ti sembrava a sentire la descrizione per come è sempre stato strutturato per la magia che comunque anche quella città offre già di suo e poi sì la città è bellissima sì anche sì e solo che lì c'è l'inconveniente che se non prenoti tipo per dormire non prenoti mesi prima non trovi è vero perché è veramente tutto preso e infatti io i primi anni che il mio primo Luca credo che fu nel 2007 2008 più di lì e ci andammo in camper proprio no grande ma tipo guarda in condizioni pietose in condizioni pietose cioè che il bagno non ci funzionava dovevamo andare nei bar per lavarci di nascosto eravamo ragazzi eravamo ragazzi però sono cose che si fanno sono cose che forgiano il carattere è vero è vero assolutamente la privazione del bagno guarda ci chiedono e lascio a te però la risposta se possiamo raccontare un aneddoto che ci è capitato di recente in sala di doppiaggio un aneddoto un aneddoto di recente io vi posso sfoderare un aneddoto che non mi è successo molto di recente vai vai perché mi è successo mi è successo quando iniziavo però credo che sia l'aneddoto proprio il re degli aneddoti e dell'aneddoto più clamoroso che potrò mai raccontare spero che non mi succeda niente di più clamoroso ok io le prime volte le prime volte andavo da assistere i turni come tutti quelli che iniziano andavo e va via a parte adesso il periodo covid prima comunque potevi andare e chiamare ti sedevi dietro alla regia nel senso che nella sala ci stava il doppiatore e in regia c'erano il direttore o direttrice il fonico e tu dietro o in piedi o seduto su una seggiolina streminzita ma cercando di accorciare col pensiero le tue ginocchia per non essere minimamente di fastidio non esisto non esisto non esisto con la sedia ti urtava tu ti sentivi in colpa se il fonico ti urtava con la sua sedia scusa 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 se esisto no ti prego sì sì anzi hai fatto rumore no ma scusa se scusa se ti ho costretto venirmi addosso infatti mi sentivo un po' tipo un wallpaper tipo una carta da parati cercavi di stare il più possibile zitto e fermo in forza di questo io mi ricordo che una volta purtroppo ero in piedi perché non c'erano sedie oppure la regia era piccola non si passava quindi vuoi mai metterti di intralcio no me ne sto in piedi tre ore a un certo punto mi appoggio ho detto dai che male c'è se mi appoggio un attimo al muro e mentre c'era dentro questa doppiatrice molto famosa di cui non so se posso fare il nome stava doppiando vabbè me lo dico il nome vai vai ma sì ma Deborah Magnaghi un mostro un mostro sacro e dicevo mamma mia Deborah Magnaghi tanto cuore io sì 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 io a un certo punto vedo che lei si ferma e dice sei spento tutto e io mi viene un brivido sapete quando vi viene un brivido proprio dallo stomaco alla testa dallo stomaco alla testa inizia a sudare freddo perché sospettavo perché avevo sentito un piccolo click mentre mi ero appoggiata e porca miseria dietro di me c'era un pulsante che spegneva il proiettore nei tempi c'era il proiettore in quella sala lì il proiettore nella sala del doppiatore ma dai e cioè di tutti i luoghi tutti i posti proprio là stava cioè proprio dovevi stare tu proprio là stavo io cavolo e hanno capito che eri stata tu all'inizio io ho fatto finta di niente ho detto dio mio voglio morire ho preso dieci anni di vita a un certo punto il fonico si gira e fa scusa tu ti sei appoggiata io no sì 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 lo ammetto sono stata io ok non vi dovete appoggiare insomma state più in qua che cavolo bla bla però il disagio era massimo ragazzi massimo estremo cioè io ho detto io qua non lavorerò mai poi per fortuna non è successo no però immaginatevi uno che inizia c'ha già le sue pive nel sacco se posso dirlo oppure una roba così no no vero vero peggio non poteva capitare ecco questo è un aneddoto poi altri adesso così non mi sovvengono però quando mi dicono parola aneddoto mi torna sempre quel brivido penso sempre sta roba che poi non credo neanche di essere l'unica dai che ha toccato questi livelli no 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 allora anche a me quando andavo ad assistere allora ancora oggi io se vado in uno studio anche se per lavoro combino qualcosa sempre cioè perché sono tipo sono tipo fantozzi in sala e quindi qualcosa combino tranquilla o dico quella cosa che dico perché ho detto sta roba che deficiente un po' come Homer Simpson non dirlo non dirlo sì esatto o sai quel momento in cui dici dai vuole fare la battuta no vabbè non lo dico o poi ma sì dai la dico e ti fanno con la faccia da ah no qualcosa alla fine ti dice che la devi dire sì ecco e ti penti il secondo dopo però ti racconto una cosa molto simpatica che secondo me coinvolge anche te tra virgolette ma parlando di uno studio lo studio dove è stato doppiato assassination tra l'altro è presente il leggio come è conciato che c'è un bellissimo foglio ragazzi dovete sapere questo c'è un bellissimo foglio con scritto non scrivere qui tutti se ne sono fregati hanno scritto barra disegnato qualcosa e c'è il mondo su quel leggio è presente no su quel foglio sì c'è scritto che giustamente è rispettoso non scarabocchiare sul leggio che di solito è fatto di sughero piuttosto che e ti chiedono cortesemente con un foglio affisso in alto a destra sul leggio non scarabocchiate sul leggio per una questione di rispetto bla 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 esatto quel foglio è completamente spacciugato non si legge più niente ma c'è qualcuno addirittura che ha disegnato e non so chi c'è qualcuno che ho anche scritto che bravo chi l'ha fatto un Goku meraviglioso allora quello l'ho visto invece io voglio sapere chi avevo dato il là disegnando una tartaruga ninja no poi sono tornato a fare penultimo ultimo turno di Takebayashi mi sono trovato tutte e quattro le tartarughe disegnate colorate ma belle fatte bene sì 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 anche belle non so chi è stato cioè quindi non lo so lanciamo una appello online chi è il collega la collega chi è il tartarughe ninja oppure anche Goku chi è quello di Goku allora io ho dato per scontato fosse stato Jacopo no invece ancora prima che io lo chiedessi ah Jacopo disegna non sapevo ma che sono tutti scarabocchi nel senso non è che sono cose articolate però si vede che qualcuno ha la manina sì 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 capace io ho detto ancora prima che lo chiedessi a Jacopo lui mi fa ma hai visto che hanno disegnato le tartarughe ma sei stato tu e io no io ho fatto quella brutta in alto qualcuno ha fatto il mistero si infittisce le altre belle sì sì che potrebbe essere perché ce ne sono un po' che disegnano non lo so soprattutto ragazze sono tantissime che fanno disegno eccetera forse la Giulia Maniglio può darsi Giulia se ci stai ascoltando guardando vedendo indifferita scrivici illumina manda una mail a voci da nerd ecco fai outing tu brava disegnatrice o disegnatore chi è comunque è pieno è un'altra cosa carina che c'è stata riguardante Assassination il copione dell'ultimo episodio era pieno di dediche non so se l'hai notato anche tu o se l'hai visto era molto carina come cosa perché c'è stata questa cosa di unione tra di noi come se fossimo stati una vera classe una cosa che non è mai successa con nessun lavoro adesso non sto parlando solo del doppiaggio perché ho fatto altri lavori prima passato nella vita non è mai successa una cosa del genere e mi sono quasi commosso cioè ho avuto una sensazione di gioia che dici guarda tra l'altro come tipo di lavoro sai è anche un po' particolare no? quindi queste cose sono molto rare secondo me certo è stato molto bello sì 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 questi messaggi spontanei che nascono sono meravigliosi sì anche perché erano tutte dediche con messaggi tipo è stato un bellissimo viaggio grazie a tutti no? certo era veramente come se fosse boh i saluti di fine anno della classe no? certo sì no bellissimo c'è questa unione della terza e della sezione che in realtà si è ha recuperato questo rapporto anche nella realtà insomma pur non vedendoci perché appunto ognuno di noi andava al turno suo e ciao magari anche molti di noi neanche si conoscono sì ma poi era addirittura difficile incrociarsi anche per sbaglio all'uscita all'entrata di un turno voglio dire sì è quello molto molto raro io ho beccato pochi che che diciamo appunto stessero uscendo dal turno o che stessero arrivando al turno dopo di me è capitato raramente una volta è successo solo con Veronica credo e con Pozzi certo sì basta credo ah Elisa Giorgio ma era lì per un'altra cosa lei non mi ricordo se è un assassination tra l'altro non è del dubbio forse è un personaggio eh no ma penso che sia no Chiocca la Sorrentino giusto? sì 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 quella con la coda e la frangetta devo farmi un ripassino sono in tantissimi perché sono tipo cosa saranno una trentina circa i personaggi solo dalla classe sono molti sono molti sono moltini sono tanti ci sono anche quelli dell'altra classe della sì quella principale che sono che sono tutti antipatici quelli dell'altra attenzione no scherzo no non è vero poi ci sono gli insegnanti poi ci sono i villain e vabbè poi non possiamo dimenticare i nostri Karasuma sensei la nostra bitch sensei doppiati magistralmente da Patrizio Prata e dalla nostra Gea Riva che mi ha fatto morire mamma mia quindi quei due sono dei peri ma poi io li shippavo tanti li shippo tantissimo vorrei insomma io shippo shippo quei due personaggi anche io cioè allora quando era appena comparsa no dopo via via con gli episodi ho detto no dai cacchio dai c'è proprio now kiss dai invece poi chissà cosa scopriremo non lo so lo vedremo stiamo arrivando verso il finale della prima stagione anime generation quindi stiamo arrivando alle battute finali adesso siamo arrivati certo che sono all'isola a Okinawa ed è successo un fattaccio che adesso io non racconto perché magari qualcuno ancora non ha iniziato la serie pannaggia voi voglio non dire recuperate 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 c'è anime generation tra l'altro aiutiamo anime generation a esistere perché più siamo più anime si importano e più ci divertiamo non sto facendo pubblicità occulta perché io stessa sono insomma iscritta per una nobile causa per gli anime certo per la distribuzione degli anime in Italia quindi è cosa buona devo dire che ha aiutato molto perché oltre che è arrivato un carico tutto assieme che l'abbiamo detto anche in più di una live una roba così non si vedeva dai tempi di bim bum bam aspetta ma neanche dai tempi in cui se ricordi MTV aveva riservato il martedì sera anime night c'era l'anime night e c'era questo anime che poi io ho preso un VHS che si chiamava cavolo ma non mi ricordo più e andrò a leggerlo c'è ancora il VHS a casa c'era Inuyasha c'era Inuyasha si Sayuki Excel Saga Excel Saga era perfetto era proprio questo mamma mia e poi c'era anche Yuyo Akusho c'era Yuyo Akusho si davano anche lui era su era su antivy vero si 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 adesso di recente è andato in onda su Italia 2 lo so lo so infatti io non ho ancora avuto tempo di vederlo ma quasi quasi ho paura di commuovermi ragazzi perché mi ricordo che l'avevo apprezzato parecchio si mi piaceva molto avevo anche il fumetto pensa che con tra l'altro i membri del canale gli utenti ci stiamo rivedendo Sayuki che anche quello lo davano su antivy che è diventato poi il mio anime preferito cioè ha superato anche quelli di quando ero più ragazzino ed è sempre di quel periodo la di antivy Exel Saga invece io ancora oggi lo considero l'anime più divertente che esista ancora oggi non c'è niente bellissimo frattaglia ma io a volte chiamo il mio gatto gli dico guarda che sei il mio cibo d'emergenza come strattaggio no sono quelle cose che ti rimanano io ho le VHS di Exel Saga ragazzi a casa di mia madre che spero che non faccia il gesto in consulto di buttarmeli via ma no madre ci sta ascoltando ci sta guardando spero tua madre no ovviamente no non credo però le VHS di Exel Saga c'è valore immenso ma valore affettivo immenso non so più neanche se le posso vedere perché non c'è più il videoregistatore credo che valgono anche un bel po' ormai perché sono rare le VHS di questi anime sì però io non penso al di il denaro ma ai ricordi che ho no no non darle mai via infatti non le darò mai via c'era anche Fumletalarch ci chiedevano in chat però quello non ce l'ho avevi anche Dragon Ball eh tutti li ho avvi ce li ho tutti cioè li avevo presi tutti una volta al mese andavo in fumetteria dai papà anche questo ti prego ti prego alla fine siamo tre sorelle li abbiamo presi tutti erano tantini perché ogni mese scaroni erano quasi una quindicina giù di lì no? sì io mi ricordo una dozzina almeno infatti dovrei andare lì quando vado da mia mamma giuro che guardo però mi ricordo che li avevamo tutti eh perché eravamo in tre rompevamo le balle in tre a mio papà alternativa cioè come si dice un mese una un mese l'altra un mese l'altra ancora poi arriva il compleanno di l'una di quella di quell'altra e le avete prese tutte Natale 1 Natale 2 Natale 3 era quello col primo doppiaggio col castro romano Andrea Ward che faceva Goku sì sì c'era come si chiamava quello che faceva Krillin Giorgio Castiglia eh non mi ricordo non mi ricordo sì era quello con quel doppiaggio lì assolutamente infatti che erano i primi due film non mi ricordo se erano i primi due o i primi tre che aveva fatto allora avevano fatto tutti dei film della prima serie e poi erano passati a quelle dello Z e poi c'era un OV che non so se fecerò la VHS che era ambientato dopo Dragon Ball GT che c'era sto Goku Goku Junior era che forse me lo ricordo sta cosa era un OV strano perché non è che ci fossero battaglie cose particolari però era tutto basato sul fatto che c'era Panna che era diventata nonna che era vecchia e che stava sembra morendo cioè era in fin di vita e quindi questo bambino che è uguale a Goku infatti si chiama Goku Junior parte per questo viaggio alla ricerca delle sfere del drago anzi lui pensa che è una sfera che esautisce tutto infatti trova la sfera dalle quattro stelle e poi compare anche Goku proprio il nostro Goku una certa e non era appunto sto gran che però c'era questa cosa del viaggio di lui piccolino così era molto tenera non so perché da ragazzo quando lo vedevo mi scendeva la lacrimuccia perché dicevi ma Marta un piacere una bellissima chiacchierata mi spiace per l'inconveniente iniziale ma abbiamo risolto almeno così alla fine ci siamo divertiti allo stesso modo io mi sono divertito mi fa piacere che ti sia divertita anche tu anche i nostri utenti qua in chat ti stanno ringraziando e salutando grazie a voi ragazzi vi saluto tutti vi mando un bacione grazie per averci seguito grazie a tutti allora utenti restati in linea che adesso noi andiamo a fare un bel ride quindi rimanete collegati che fra poco lo attiviamo e noi ci rivediamo alla prossima il prossimo appuntamento sicuramente giovedì con Jacopo ed Elena se se sarà possibile ma non credo perché domani no domani non posso come non detto niente niente watch party lo organizzeremo un'altra volta ma con noi sicuramente venerdì il watch party di Batman quindi non mancate venerdì per il watch party di Batman e giovedì invece con Jacopo ed Elena con la sorpresa che mi hanno detto che poi ve l'hanno rilevata quindi non è più tanta ve l'hanno rivelata poi non è più tanto una sorpresa va bene ciao ragazzi buonanotte grazie a tutti buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti